buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar dal titolo strumenti azioni per il monitoraggio della trasformazione digitale dell'APA è un evento organizzato da agide da formats pia nell'ambito del nostro progetto informazione e formazione per la transizione digitale dell'APA che ricade nell'ambito di italia login la casa del cittadino e nello specifico della linea 1 gestione della trasformazione digitale come già sapete vi siete iscritti a questo webinar dalla stessa pagina da cui al termine del webinar potrete scaricare e trovare tutti i materiali e le slide di accompagnamento alle nostre comunicazioni di quest'oggi nelle ore successive troverete anche la registrazione di questo evento quindi dalla stessa pagina da cui vi siete iscritti per quanto riguarda l'attestato come di consueto potrete scaricarlo sempre dalla stessa pagina dopo che lo staff avrà attestato la vostra presenza che deve essere una presenza di almeno 20 minuti venendo al programma di oggi oggi affrontiamo il tema del monitoraggio della trasformazione digitale dell'APA come abbiamo detto introdurrà il tema michela collacchi con una comunicazione dal titolo il monitoraggio della trasformazione digitale nell'APA e a seguito ci sarà l'intervento di andrea susa sul monitoraggio e valutazione con delle illustrazioni per comprendere meglio questi due temi seguirà la comunicazione di stelio pagnotta il monitoraggio del piano triennale per l'informatica dell'APA e concluderà con l'ultimo intervento nicola dichiara con una comunicazione dal titolo il monitoraggio del progetto italia lovigin tutti i nostri esperti di oggi sono di agid al termine dell'ultima comunicazione abbiamo il nostro consueto spazio per la risposta alle vostre domande che vi invito fin da ora a porre nel campo della chat che vedete al di sotto del dello schermo tutte le vostre domande saranno raccolte e saranno poste ai nostri esperti che nel nello spazio dedicato alla risposta alle domande cercheranno di rispondere a quante più domande possibile e però state certi che se ci dovessero essere delle domande che non troveranno risposta in questa diretta noi le raccoglieremo comunque e cercheremo di farci dare da gli esperti di agile una risposta scritta che pubblicheremo alla stessa pagina di eventi quindi non mi rimane che dare la parola a Michela Collacchi che prego di collegarsi in modo da provare audio video nuovamente eccoci qui Michela prova a parlare mi sentite ok perfetto Michela allora io vi auguro un webinar e ci vediamo grazie Teresa e buongiorno a tutti sono Michela Collacchi per l'Italia digitale di Agile e oggi vi vogliamo proprio parlare degli strumenti e delle azioni per il monitoraggio di progetti di trasformazione digitale e diciamo che l'idea di diciamo di organizzare questo webinar in realtà è venuta proprio nell'ambito del di questo progetto che stiamo cogestendo tra Agid e Formez perché come vi ha detto Teresa questo progetto eh rientra tra le attività che Agid ha messo in campo per la realizzazione di un progetto cofinanziato a valere sul con governance eh duemila quattordici duemilaventi quindi vecchia programmazione diciamo così che si chiama Italia Login alla casa del cittadino ehm come sapete diciamo in tutti i progetti cofinanziati finanziati su fondi strutturali eh i progetti beneficiari per la realizzazione dei propri interventi avevano anche l'obbligo di valutare quelli che erano il raggiungimento di alcuni target fisici di alcuni indicatori fisici in particolar modo ad Agid era stato dato eh diciamo il compito di valorizzare un indicatore che si chiama quattro out che ha proprio come obiettivo quello di andare a misurare gli interventi per lo sviluppo delle competenze digitali della pubblica amministrazione poiché Agid è un'agenzia tecnica quindi è competente degli argomenti ma non è competente di attività di formazione nel momento in cui abbiamo iniziato a ehm in cui abbiamo iniziato a chiedere come diciamo andare a misurare questo indicatore eh abbiamo valutato che era opportuno eh fare un accordo a un'agenzia con una società che si occupasse di formazione la nostra scelta è caduta sul Formez proprio perché loro diciamo riconosciuta la loro eccellenza oltre che il Formez è un ente in house di Agid per questo motivo abbiamo creato questo questo progetto e quindi proprio dalla necessità che abbiamo avuto noi di partire a misurare quelli che sono eh gli obiettivi che ci sono stati dati nell'ambito di un progetto di trasformazione digitale abbiamo detto che poteva essere una buona occasione quello di raccontare in qualche modo quali sono eh gli strumenti come Agid si diciamo organizza al suo interno proprio in questo ambito e il caso è anche interessante perché il progetto Italia Login come vi dicevo è di vecchia programmazione quindi terminerà il il 31 di ottobre 2023 quindi noi oggi saremmo in grado di farvi vedere tutto il ciclo di di monitoraggio di un progetto quindi dalla definizione dell'indicatore alla definizione della metodologia di valorizzazione e infine i risultati quindi ehm questo è un pochino il presupposto del del nostro del nostro webinar di oggi e a questo punto parto con le slide quindi la prima cosa che dobbiamo chiarire è perché Agid parla di monitoraggio della trasformazione digitale questa competenza è diciamo stata assegnata ad Agid dalla nuova eh formulazione del CAD a seguito del decreto semplificazioni bis che ha introdotto il famosissimo articolo 18 bis eh che appunto sono violazione degli obblighi di transizione digitale nel senso che nel 18 bis oltre al tema che diciamo sicuramente eh più conosciuto di quelle che sono le attività di vigilanza verifica e controllo sul rispetto delle disposizioni del CAD e delle ehm della normativa di settore da parte delle amministrazioni prevede anche un'attività di monitoraggio su su appunto il rispetto della ehm della normativa di digitalizzazione questo fa sì che Agid a seguito dell'introduzione del 18 bis ha diciamo così un doppio ruolo sul tema della trasformazione digitale un ruolo di facilitatore e di accompagno per le amministrazioni nella identificazione delle iniziative a supporto della transizione e questo noi lo vediamo in quelle che sono le attività che vengono fatte normalmente di accompagnamento alle amministrazioni agli RTD tutte le attività di linee guida ma anche queste azioni di vigilanza che devono essere ehm lette però come stimolo per le amministrazioni ad erogare servizi qualità quindi è importante capire che quando noi parliamo di vigilanza in ambito Agid non parliamo mai di una vigilanza che è di tipo eh punitivo passatemi il termine ma è soltanto appunto di ehm aiutare le amministrazioni nel caso vengano individuate delle difficoltà a riprogettare a risistemare diciamo così i servizi eh digitali affinché questi effettivamente eh siano dei servizi di qualità e diciamo rispondenti a tutte quella che è la normativa di settore e ai documenti di governanza ehm a seguito quindi dell'introduzione del 18 bis all'interno di del CAD ha già dovuto rimodificare la propria organizzazione interna ed ha costituito un'area che si chiama area vigilanza e monitoraggio che racchiude proprio queste competenze quindi le competenze del 18 bis di valutazione e ehm appunto del 18 bis le competenze del monitoraggio scusatemi del monitoraggio della transizione digitale e ovviamente quelle diciamo tradizionali in ambito di vigilanza che sono quelle che fanno riferimento alle competenze del 14 bis sul trust sui trusted services quindi noi diciamo ci siamo adeguati affinché eh siamo rispondenti alle necessità individuate dal CAD a questo punto quindi dobbiamo capire ma cosa vuol dire monitorare un progetto di trasformazione digitale eh tutti quanti noi eh lavoriamo su progetti tutti quanti noi siamo abituati a fare un monitoraggio di tipo economico finanziario di un progetto quindi a pianificare i costi e a seguire l'avanzamento delle spese il mh concetto invece eh nuovo diciamo introdotto in maniera più forte con la vecchia programmazione dei fondi strutturali e che però è stato ripreso ampiamente nella nuova programmazione ma anche nel PNRR è quello che riguarda invece il monitoraggio fisico ossia che ad ogni progetto devono essere associati dei indicatori e di target ehm con dei eh numeri di cioè con dei valori target appunto che servono per ehm andare a vedere se le azioni che sono state messe in campo effettivamente eh il loro obiettivo ehm il monitoraggio come sappiamo non è un'attività fine a se stessa perché proprio grazie alla valutazione di questi risultati devono essere ehm i dati che ne vengono fuori possono essere utilizzati per riorientare eh la le diciamo la governance eh e le azioni future quindi tendenzialmente i risultati del monitoraggio eh delle vecchie programmazioni vengono posti come base diciamo così per orientare le nuove decisioni e le nuove politiche. Ok e quindi abbiamo detto ehm eh un'altra cosa che volevamo dire per cui è anche opportuno in questo momento parlare eh di del monitoraggio fisico è perché noi ci troviamo in un momento molto particolare cioè fino a qualche anno fa il vero problema per la pubblica amministrazione era trovare delle risorse in termini di finanziamenti per realizzare le attività. Noi siamo in un momento storico dove la pubblica amministrazione ha tantissimi fondi che sono i fondi della nuova programmazione e ovviamente quelli del PNRR i quali però prevedono delle regole ben precise di gestione e rendicontazione delle attività. Quindi a fianco a quelle che sono le attività tipiche dell'avanzamento fisico è necessario eh andare anche a capire quelle che sono le regole proprie di questi strumenti. Quindi vogliamo darvi eh diciamo il taglio che vogliamo dare a questo webinar è proprio quello un pochino operativo nel senso farvi capire eh un po' di metodologia e darvi degli esempi di come noi ci stiamo organizzando per monitorare dei grandi progetti inteso innanzitutto come un grande progetto quello che è il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che come sapete prevede al suo interno delle ehm degli obiettivi da raggiungere e quindi anche degli indicatori eh che sono appunto gli obiettivi realizzativi e e risultati attesi che appunto vi verrà descritto in seguito e poi farvi un focus appunto su Italia Login per spiegarvi come noi ci siamo posti il problema eh di trovare la metodologia più adatta per valorizzare gli indicatori che ci sono stati assegnati e e come eh abbiamo poi potuto effettivamente raggiungere gli obiettivi perché monitorare un progetto di trasformazione digitale vuol dire comprendere e migliorare l'attuazione di un progetto perché nel momento in cui noi andiamo ad individuare target ed indicatori andiamo a scomporre il progetto in obiettivi che devono essere assolutamente eh realistici da raggiungere bisogna individuare una metodologia di valutazione e quindi ritorno all'esempio iniziale del del progetto che abbiamo realizzato insieme al Formez quindi noi dovevamo raggiungere come il nostro indicatore ehm un accrescimento delle competenze digitali non potendolo fare in casa abbiamo trovato come metodologia abbiamo deciso di farlo attraverso un progetto con una società con un ente in questo caso che si occupa di formazione. Altro criterio fondamentale deve essere documentabile perché ricordiamoci che quando stiamo parlando di progetti finanziati noi dobbiamo abbiamo anche l'onere di fornire le prove eh del raggiungimento dei valori che eh noi dichiariamo per cui devono essere eh documenti nel senso archiviabili e dobbiamo che devono essere esposti ogni qual volta ci venga richiesto in fase di audit interno ma anche scusatemi di audit eh di secondo livello quindi anche un audit successivo da parte della Commissione Europea ed infine avere anche il coraggio di misurare i fallimenti perché anche le eventuali criticità eh devono eh darci la devono essere viste come opportunità di riprogrammare le attività del progetto se il progetto è ancora in corso oppure programmare le nuove ehm azioni di governance ad esempio per quanto riguarda eh le attività future. Quindi diciamo come vi dicevo all'inizio eh questo webinar avrà un taglio operativo il prossimo intervento quindi sarà del collega Andrea Susa che vi eh illustrerà un approccio metodologico per comprendere e migliorare che cosa significa fare il monitoraggio e la valutazione di un progetto. Dopodiché ci sarà eh Stelio Pagnotta che vi descriverà il come agite si organizza per il monitoraggio del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed infine riprendiamo l'esempio di Italia Login che vi dicevo questo progetto con governance eh nel quale il collega Nicola De Chiara vi illustrerà tutte le fasi che abbiamo seguito quindi dalla definizione eh della metodologia a come abbiamo valorizzato e poi vi presenterà anche i risultati del della nostra attività. Quindi io mi taccio, vi ringrazio della partecipazione passo la parola ad Andrea. Salve, buongiorno a tutti e benvenuto a questa seconda parte eh del nostro webinar nel quale parleremo di monitoraggio e valutazione. Lo scopo praticamente di questa piccola parte è introdurre eh i concetti di monitoraggio e valutazione e soprattutto andare a vedere come questa parte si incastra all'interno praticamente della progettazione europea e della valutazione finale. Intanto monitoraggio e valutazione sono parole che nella pubblica di amministrazione sono molto inflazionate. Essenzialmente ogni volta che c'è un progetto, che c'è una riorganizzazione, si parla sempre soltanto di monitoraggio e valutazione. Ma realmente queste queste due eh attività sono far loro complementari e aiutano moltissimo le amministrazioni a comprendersi e a conoscere se stesse. Diciamo così. In in modo particolare quello che vogliamo vedere noi è come si fa la eh il monitoraggio e la valutazione di un progetto avendo a disposizione in modo particolare come esempi la progettazione europea e il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione. Partiamo un po' dalle basi. Che cos'è un progetto? Un progetto comunque lo vediamo è essenzialmente una serie di attività che che devono che devono portare risultati chiaramente definiti in un lasso di tempo stabilito con un budget diciamo così determinato ma poi sappiamo tutti che il budget è soggetto a incrementi che possono derivare da tantissimi fattori esterni e con caratteristiche fissate. Il problema non è tanto monitorare un progetto ma stabilire quando un progetto è di successo e quando invece un progetto fallisce. Quindi il monitoraggio ci dice se una certa attività un certo progetto sta andando più o meno secondo il nostro piano. La valutazione ci dice se questo progetto ha raggiunto gli obiettivi che erano stati stabiliti oppure non li ha raggiunti e fallito. E soprattutto partiamo da un presupposto che un progetto non è un piano. Il piano è una parte del progetto. Il progetto è qualcosa di leggermente più grande. Quindi partiamo nel nostro presupposto che i piani falliscono e soprattutto se non hanno uno scopo, se non sappiamo ben misurare cosa vogliono e qual è il risultato atteso, il rischio molto grosso è quello di creare essenzialmente cattedrani nel deserto. Ovvero fare un bellissimo progetto, fare un bellissimo output finale, ma realmente non farci nulla. Quindi quando si fa progettazione europea in modo particolare, ma anche la progettazione a livello italiano e tutto quanto, quello che è importante è capire non soltanto cosa si vuole ottenere, ma anche come andare a valutare se quel oggetto avrà realmente il beneficio che mi aspetto. Quindi quando si parla di risultati di un progetto si parla o di qualcosa di tangibile, ad esempio un ponte, ad esempio un traforo, uno stadio, un ospedale, quindi un risultato fisico, oppure si parla di risultati intangibili, che può essere l'esperienza, la riorganizzazione, le competenze acquisite. Quando si parla invece di impatto dell'obiettivo, praticamente, o del risultato, cosa si intende? Si intende se quel particolare risultato avrà o no praticamente i benefici che mi sono dato. Un ponte, il numero di passaggi sul ponte, le competenze acquisite, il miglioramento delle performance, l'incremento magari della sicurezza su luoghi di lavoro, per la formazione, l'aumento della consapevolezza su tematiche specifiche. Quindi la progettazione europea si dice che è performance-based perché è basata sulle performance, sul raggiungimento non soltanto dell'obiettivo fisico, ma anche del beneficio associato a questo obiettivo fisico. È importante quindi saper separare e comprendere a priori quali possono essere gli obiettivi del nostro risultato e soprattutto quali sono gli impatti di questo risultato. Un esempio che spesso si fa praticamente in Italia è quello delle famose cattedrale nel deserto. Quante volte praticamente un po' nell'ottica chinesiana si costruisce praticamente perché ci sono i fondi e quindi si vuole andare praticamente a spendere questi soldi senza andare poi a valutare se l'impatto di questi sforzi, di questi diciamo così enormi progetti abbiano o no quello che noi ci aspettiamo. Io vengo ad esempio da alcune zone d'Italia dove appunto si sono spesi per vari fondi per attività che poi purtroppo non hanno portato a quello che era l'obiettivo finale, essenzialmente gli impatti che si aspettavano. Quindi è importante sapere anche dire praticamente anche nel corso di un progetto fosse il caso di andare a riorientare la programmazione. Forse determinate attività potrebbero non essere realmente utili. Questo è importante anche perché il problema non è tanto fare un'opera, il problema è poi mantenerla. Qual è la situazione? È che molto spesso i fondi europei sono finalizzati alla costruzione, al finanziamento, non all'assistenza. Quindi magari costruiamo tanto ma poi alla fine non sappiamo mantenerlo. Quindi è importante, ripeto, andare a verificare qual è il beneficio dell'opera che stiamo creando, del progetto che stiamo creando. Ora questa è un'attività che non dipende semplicemente dalla progettazione europea. Proprio il project management di base parla sempre di monitoraggio e controllo di valutazione finale e soprattutto di un documento che chiunque lavora ad esempio nel privato conosce molto bene. Prima di fare un progetto si fa un business case. Bene, nella progettazione europea praticamente si chiama performance framework, ovvero documento praticamente che mi descrive il quadro logico nel quale si un certo progetto va a vivere, quindi dalla progettazione alla nascita, alla esecuzione, fino al raggiungimento degli obiettivi e che costruisce praticamente tutti i target che io mi aspetto che un certo progetto si evolva con determinati tipi anche di paletti che mi dicono forse è il caso di riprogettare. Quindi come vediamo non è niente di eccezionale, il project management esiste ormai da vari anni come disciplina, la progettazione europea più o meno è nata con i grandi fondi europei, il FEAG, il FEASRA, l'agricoltura, i fondi SIE per quanto riguarda la coesione e così via. Sono tutti basati su il raggiungimento di obiettivi ma soprattutto si spera il raggiungimento dei benefici che a questi obiettivi sono legati. quindi ad esempio nel cosiddetto project management cycle che è praticamente la metodologia per la progettazione europea, perché si fa la valutazione, perché si fa il monitoraggio? Non soltanto perché si vuole andare a vedere come un certo capitolo è stato speso, come certi fondi sono stati spesi, ma anche per riorientare la programmazione futura. Invece cosa succede nel project management? Si stabilisce quali sono i metodi di valutazione per poter andare attraverso il monitoraggio a comprendere se un certo progetto può nel corso della sua esecuzione mantenere sempre vivo l'obiettivo finale, per poi andare a valutare se questo obiettivo finale raggiunge il beneficio che mi sono proposto. Quindi l'approccio come vediamo, se sia che si parla di progettazione europea, sia se si parla di project management classico, è sempre lo stesso. Andare a valutare, andare a fare un monitoraggio in itiner che mi porta a dire se un certo progetto sta all'interno del piano, quindi con le my son previste e tutto quanto, con un avanzamento economico e fisico che abbia praticamente allineato e coerente con il quadro del mio progetto, per poi andare a fine a valutare se questo progetto raggiunge i benefici previsti. Tutto questo sono, ripeto, molte belle chiacchiere, però andiamo adesso ad entrare un attimino un pochino sul merito. Il monitoraggio è lo strumento a supporto delle decisioni durante il progetto. Quindi parla esclusivamente di progetto, avanzamento economico, fisico e di tutto quelli che sono praticamente la cosiddetta terna, tempi, costi e qualità e ambito. Questo praticamente fa il monitoraggio. La valutazione invece è essenzialmente finalizzata a verificare il raggiungimento di obiettivi con i benefici secondo il piano di rilascio previsto all'interno del progetto. E soprattutto il suo scopo è quello di, ripeto, alimentare i dati per gli accordi parternariato per la successiva programmazione. Con il PNRR diciamo che questa fase è un pochino saltata, perché? Perché non era finita la vecchia programmazione, il piano nazionale di ripresa e resilienza è iniziato praticamente con dati che sono stati partendo, ripeto, sempre dalla programmazione, comunque sono stati alimentati ma non erano ancora definitivi. Invece il nuovo accordo di parternariato sta nascendo, praticamente è stato stipulato da pochissimo, la nuova programmazione nasce proprio dai risultati in itinere della valutazione dei grandi progetti. Quindi, ricapitolando, abbiamo un'attività che è la progettazione iniziale, quindi abbiamo un progetto, tempi, costi, qualità, obiettivi e risultati. Quello che mi aspetto all'interno praticamente della gestione di un progetto, come questo progetto si evolverà nei 3, 5, 7 anni di programmazione. C'è l'esecuzione, con tutta un'attività di monitoraggio fisico ed economico e di valutazione in itinere per verificare appunto il raggiungimento di certi obiettivi. Al termine avrò un risultato finale e una valutazione sul raggiungimento dei benefici ottenuti. Bellissimo, detto così è bellissimo, tutto quanto andiamo a vedere come materialmente può essere fatta una valutazione e un monitoraggio. Essenzialmente la valutazione, come stavamo dicendo prima, per quanto riguarda la progettazione europea è legata al performance framework, che è stabilito praticamente all'interno del regolamento europeo per i fondi e soprattutto proprio perché è legato praticamente al raggiungimento degli obiettivi performance-based, diciamo la programmazione e il PNRR, l'Unione Europea in modo particolare la Commissione ha stabilito che ci sia una quota di riserva legata al raggiungimento di questi obiettivi, tra il 3 e il 7% a seconda della tipologia dei fondi associati. Quindi che cos'è il performance framework? Identifica una serie di indicatori suddivisi per indicatori finanziari di realizzazione e di impatto. Il raggiungimento dei target finanziari e di realizzazione praticamente permettono poi di andare a misurare quelli di impatto e poi il rilascio appunto di queste risorse a disposizione. La struttura del performance framework è abbastanza standard, chi conosce il project management di base si ritrova praticamente con la stessa struttura più o meno di un business case per quanto riguarda gli indicatori e sono essenzialmente la costruzione a carico dei vari stati e quindi delle varie autorità di gestione di uno schema che identifica una serie di priorità, una serie di indicatori praticamente, che devono essere realistici soprattutto, raggiungibili, perché è inutile che ci inventiamo chissà che cosa se poi magari non riusciamo né a misurarli né soprattutto a realizzarli. Devono essere coerenti con gli obiettivi, cioè non mi posso inventare un indicatore che non ha senso rispetto agli obiettivi che mi sono dato. Devono essere trasparenti e soprattutto tutti i dati devono essere oggettivamente disponibili a praticamente al pubblico, quindi i famosi open data. È di questi giorni il fatto che il PNRR finalmente ha rilasciato gli open data relativi all'avanzamento economico e fisico dei vari progetti. Sono fatte a disposizione sul portale Italia Domani praticamente da pochi giorni e quindi lì ci sono tutti i dati dell'avanzamento di questi due macro indicatori, finanziario e fisico. Inoltre devono essere verificabili senza oneri eccessivi, cioè per andare a fare il monitoraggio e valutazione non posso andare a spendere più di una certa quota rispetto all'intero progetto, altrimenti non avrebbe senso. Quindi vi facciamo un esempio, il PON PON governance, il progetto Italia Login ad esempio, al progetto Italia Login erano legati una serie di indicatori di risultato e una serie di indicatori di output. Il personal framework è disponibile sul portale PON governance ed è praticamente riporta tutto quello che sono le azioni previste all'interno praticamente della PON governance, una serie di indicatori di risultato. E come vedete, come sono strutturate questi indicatori di risultato? Sono indicatori praticamente, ad esempio, dipendenti di amministratori, il 5 RIS, dipendenti di amministratori locali che hanno seguito corsi di formazione ST. Quindi viene definita un'unità di misura, una categoria, praticamente un valore obiettivo e una fonte dei dati. In questo caso è l'ISTAT. Ad esempio c'è il 7 RIS, amministrazione che si sono riorganizzate, anche questo praticamente ha a che fare con il PON governance, poi vedremo anche i risultati, ce li scriverà il collega successivamente. Altrimenti ci sono quelli di output. Quindi il performance framework in realtà è un aiuto. Perché? Perché orienta anche il passaggio da programma a progetto. Quindi se io voglio andare in questa direzione, perché? Perché questi sono gli obiettivi che mi sono dato a livello macro. Tutta la programmazione all'interno e la suddivisione in progetti dovrà andare ad alimentare il raggiungimento degli obiettivi che mi sono dato all'interno di questo performance framework. Infatti, come vi dicevo, la valutazione in itinere dei vari PON ha orientato praticamente l'identificazione delle 6 missioni del PNRR. Come vediamo ad esempio, per quanto riguarda la missione 1, digitazione, innovazione e completività, poi c'è ovviamente le altre e tutto quanto. Però all'interno di quella, i dati all'interno del PON governance hanno alimentato la definizione di alcune delle programmazioni all'interno della missione 1. Per quanto riguarda invece la nuova programmazione, come vedete il PON governance con i dati della valutazione in itinere è andata all'interno della missione dell'area tematica 12, per quanto riguarda appunto la capacità amministrativa, il capacity building della PIA. Quindi questo tipo di programmazione ha un notevole impatto e quindi è importante saper pianificare e progettare il programma rispetto a qualcosa che è facilmente, facilmente no, che è effettivamente implementabile. Il problema qual è essenzialmente? Che se non sappiamo progettare, soprattutto non sappiamo poi spendere bene su questi progetti, la programmazione successiva ovviamente diminuisce per quanto riguarda praticamente la sua capienza e quindi diminuiscono i soldi a disposizione. Ma i soldi ci sono e sono anche tanti, quindi l'importante è avere la capacità di progettare orientandosi rispetto a questi indicatori, a questi obiettivi macro che si sono definiti. Ora andiamo a capire velocemente cosa vuol dire valutare, cioè cosa devo valutare e come devo valutarlo. La valutazione in itinere è praticamente molto semplice. Alimentata dai dati del monitoraggio, io vado a vedere l'avanzamento economico, che è la cosa più semplice in assoluto per una pubblica amministrazione, l'avanzamento fisico del progetto, quindi cosa sta rilasciando quel progetto rispetto a quello che mi sono dato. La valutazione invece è qualcosa di più generale, va a vedere l'impatto di quello che sto facendo e soprattutto va a misurare se la programmazione è realmente allineata a quello che ci eravamo dato. E questo praticamente ci riporta alla fase iniziale, perché la valutazione e il monitoraggio si programmano all'inizio. Non per niente il quadro logico va a costruire gli indicatori man mano che io proseguo all'interno del mio progetto. Obiettivi generali, qual è la logica di intervento e come la logica di intervento va misurata. Misura, contributa, l'indicatore va a misurare il contributo dell'obiettivo generale rispetto a quello che io mi sto accingendo a svolgere, a pianificare e ad eseguire. E le fonti di verifica. Quindi come vedete la struttura stessa mi porta a definire questi indicatori. Cos'è successo nel passato è che molto spesso questi indicatori purtroppo erano talmente generici che non si potevano misurare e soprattutto non contribuivano materialmente a una misurazione effettiva del raggiungimento di questi obiettivi. Il che ha comportato ad esempio negli accordi partenariato purtroppo una riduzione di risorse per alcune programmazioni passate. Quindi come faccio a costruirla? Ebbene anche qui il regolamento europeo è molto chiaro su questo. Ci dice praticamente che il piano di valutazione che deve essere fatto a priori deve indicare chiaramente quali sono le caratteristiche di questa valutazione. Valutazione ex ante che è quella che mi serve a costruire l'impianto, una valutazione in itinere che viene alimentata dai dati del monitoraggio fisico e dal monitoraggio economico e ed ex post. Le finalità di questa ovviamente sono verificare l'impatto di tutto ciò. L'ambito di valutazione ad esempio del PON governance molto semplicemente come è fatto? Bene, il piano di valutazione prevede alcune domande ecco e la valutazione va a rispondere a queste domande. Come si risponde a queste domande? Molto semplicemente si va a definire un approccio metodologico. Esempio abbiamo una domanda qual è l'avanzamento procedurale fisico e finanziario del progetto e questa basta un'analisi documentale, una cositta analisi desk. Quali sono le fonti di informazione? I report di monitoraggio e Delphi, la famosa piattaforma praticamente su cui venivano caricati gli avanzamenti economici dei progetti. Per adesso per il PNRR ci sarà il Regis. Qual è il grado di adeguatezza degli indicatori? Anche qui quali sono praticamente le modalità operative per svolgere questa valutazione? Beh, un'analisi desk, quindi un'analisi di documentazione, un'analisi documentale e una serie di interviste referenti. E come costruisco le interviste? Beh, è l'analisi desk che mi dà praticamente l'elenco di domande da porre una volta che io ho individuato quali sono gli stakeholder. Partendo dall'analisi del progetto dal quadro logico, io identifico praticamente quali sono le domande da porre per andare a rispondere attraverso magari dei questionari oppure delle interviste dirette. Quindi la valutazione vera e propria è una parte di interlocuzione con tutti gli stakeholder per andare a valutare se realmente quel progetto, quel programma ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati. Quindi questo è lo scopo e questo diciamo è un approccio. Diciamo che 20 minuti purtroppo sono passati e io sono già in ritardo con il mio intervento. Allora, sicuramente, ripeto, la progettazione europea è un mondo a parte, facilmente costruibile per la valutazione e soprattutto noi siamo comunque disponibili per le domande. Lascio la parola al dottor Pagnotta, praticamente, per quanto riguarda la valutazione del piano triennale. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti. In questo quarto d'ora, partendo chiaramente da quella che è stata la valutazione, quelle che sono state le riflessioni dal punto di vista metodologico, fatte dal collega, proveremo a capire come abbiamo provato a applicare questo approccio e queste metodologie su quello che potremmo in senso molto ampio definire uno dei principali tra virgolette progetti, nonché chiaramente attività istituzionali dell'Agenzia, ovvero l'attività di redazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Chiaramente anche in questo caso partiamo da un dato normativo. L'articolo 14 bis del codice dell'amministrazione digitale, nell'indicare, nell'individuare le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, attribuisce all'Agenzia il compito della redazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma anche della successiva verifica dell'attuazione del piano stesso. Quindi è chiaro che il codice dell'amministrazione digitale ci dice che l'Agenzia per l'Italia digitale ha anche il compito di andare a monitorare e verificare l'attuazione del piano. Il dato normativo è chiaramente un dato importante perché rappresenta il presupposto dell'azione amministrativa dell'ente, ma come ha ben spiegato il collega nell'intervento che mi ha preceduto, rappresenta l'attività di verifica dell'attuazione e quindi di monitoraggio un'attività fondamentale anche per comprendere come il piano triennale impatta. sulla trasformazione digitale del nostro paese, come impatta sulle pubbliche amministrazioni e chiaramente rappresenta un elemento fondamentale anche nella fase di redazione del piano stesso, poiché chiaramente rappresenta la guida nel momento in cui si va ad aggiornare il documento. Come molto probabilmente chi segue questo webinar saprà, il piano triennale è quel documento che deve guidare operativamente la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. La sua struttura si basa su quello che è definito come modello del sistema informativo della pubblica amministrazione, che è questa immagine che vedete sulla sinistra della slide. Quindi come vedete, alla base del piano triennale c'è questo modello che si caratterizza per quattro layer orizzontali e due layer che operano in maniera verticale anche rispetto agli altri, che si riflettono poi in quello che è l'indice dell'attuale piano triennale. L'agenzia ha pubblicato l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione nel mese di gennaio per il triennio 2022-2024 e come vedete si costituisce di una parte di introduzione in cui sono sostanzialmente indicati la strategia e i principi guida. Ci sono poi sei capitoli dedicate a quelle che vengono definite come componenti tecnologiche, quindi dedicate ai servizi, ai dati, alle piattaforme, alle infrastrutture, all'interoperabilità e alla sicurezza informatica e ci sono poi i capitoli finali che sono invece dedicati al tema della governance. Perché è importante parlare di monitoraggio anche rispetto al piano triennale? Poiché chiaramente sempre se avete a mente questo strumento, questo documento, vi sarete resi conto che la struttura del piano triennale anche nel corso del tempo è mutata, si è modificata, si è passata da edizioni nei primi anni che avevano un approccio molto probabilmente meno orientato al monitoraggio, ma perché? Perché per molti versi si trattava di uno strumento nuovo che le amministrazioni dovevano ancora conoscere, era quindi molto più verboso rispetto alle ultime edizioni, ma perché c'erano tante cose da raccontare e anche da far comprendere. Nel tempo l'approccio di redazione al piano triennale è mutato, è stato molto più orientato alla misurazione dei risultati e quella che vedete rappresentata in slide è l'attuale struttura dei capitoli del piano triennale, che è una struttura molto snella, come vi dicevo, molto orientata all'approccio della misurazione dei risultati e ciascun capitolo si caratterizza per una breve introduzione, quindi una descrizione sostanzialmente di quello che è l'ambito che verrà toccato, che verrà trattato nel capitolo. C'è poi un elenco e quindi una sintesi di quelli che sono i riferimenti normativi, sia per quanto riguarda l'ambito nazionale che l'ambito europeo sia normativi che strategici. Ci sono poi altre tre sezioni che sono quelle che vanno in maniera particolare ad incidere sul tema del monitoraggio, che sono quella degli obiettivi e dei risultati attesi e delle cosiddette linee d'azione. All'interno di ogni capitolo, infatti, troverete degli obiettivi e per ciascun obiettivo l'indicazione di risultati attesi, che devono essere sostenibili e misurabili attraverso target annuali e incrementali. Quindi, come vedete, ritrovate pienamente quanto detto dal collega che aveva analizzato metodologicamente come avviene il monitoraggio di un progetto. Oltre agli obiettivi e risultati attesi ci sono le cosiddette linee d'azione, cioè ci sono due ulteriori sezioni, nel senso che per ciascun obiettivo sono individuate delle roadmap di azioni per il terreno di riferimento, quindi con riferimento a questo piano triennale, chiaramente parliamo di 2022-2024, divise in due diverse sezioni, delle roadmap con azioni a carico di Agid, del Dipartimento per la trasformazione digitale o comunque degli altri soggetti istituzionali che si occupano della trasformazione digitale e una roadmap invece di linee d'azione dedicati alle pubbliche amministrazioni. Tenendo quindi a mente questa evoluzione del documento e questa struttura dei capitoli, il monitoraggio del piano triennale prevede complessivamente tre livelli, tre macroattività che vengono svolte dall'agenzia. Il primo è il monitoraggio dei risultati attesi. Come vi ho detto, ciascun obiettivo all'interno dei capitoli prevede dei risultati attesi che devono essere misurabili e sostenibili e chiaramente devono avere una specifica source di riferimento per poter essere misurati. Il monitoraggio delle linee d'azione, in questo caso il monitoraggio sarà tendenzialmente un monitoraggio on-off, nel senso che un'azione può essere fatta o non fatta nel rispetto delle tempistiche definite. E c'è poi quello che potremmo definire come monitoraggio dell'andamento della spesa ai siti. L'agenzia annualmente svolge una rilevazione periodica sulla spesa ai siti delle pubbliche amministrazioni. Ora, rispetto a questi tre livelli, per quanto riguarda i primi due, quindi il monitoraggio dei risultati attesi e il monitoraggio delle linee d'azione è in corso in questa fase proprio la misurazione, quindi è in corso proprio l'attività di monitoraggio sia dei risultati attesi che delle linee d'azione che avevano scadenza fissata a dicembre 2022. Anche per quanto riguarda il report della spesa, nel corso del 2022 è stata condotta l'attività di rilevazione ed è in questa fase, in via di redazione e quindi in via di pubblicazione, il report che fa riferimento alla spesa ai siti nella pubblica amministrazione per l'anno 2022. Faccio un piccolo e brevissimo focus su questi tre diversi ambiti. Come vi dicevo, per quanto riguarda gli obiettivi e risultati attesi, abbiamo un obiettivo che viene valutato attraverso l'introduzione nel capitolo di due o tre risultati attesi. Per ciascun risultato atteso abbiamo la definizione di target incrementali, quindi nell'edizione di quest'anno troverete dei target per il 2022, per il 2023 e per il 2024 che chiaramente devono essere incrementali rispetto a quella che è la baseline di partenza. Nella prima edizione del piano che ha strutturata in questo modo sono state nella maggior parte dei casi individuate delle baseline di partenza e chiaramente in queste edizioni c'è possibile introdurre dei target incrementali. Chiaramente sottolineo ancora una volta il fatto che deve trattarsi di target misurabili e raggiungibili poiché sempre come diceva il collega è importante tenere a mente il punto di partenza e tenere a mente qual è il risultato che si può raggiungere in termini concreti. Naturalmente un altro elemento da tenere a mente nel momento in cui scriviamo i risultati attesi e quindi gli indicatori di questo tipo è la cosiddetta source, cioè la fonte di alimentazione, nel senso che per poter scrivere un indicatore che abbia dei target è necessario poi poter andare ad avere una fonte di misurazione dell'indicatore stesso, che può essere tanto esterna quanto interna. Quindi diciamo che i risultati attesi del piano sono costruiti come degli indicatori di risultato che quindi misurano il risultato raggiunto in termini fisici secondo quella che è definita come metodologia OKR. Quindi abbiamo come vi ho detto un obiettivo, quindi viene fissato un obiettivo generale di lungo periodo, quindi un traguardo da raggiungere. Abbiamo dei risultati chiave che devono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, quindi devono sostanzialmente ci dicono se stiamo andando nella direzione giusta e ci dicono se stiamo contribuendo con le nostre attività al raggiungimento di quell'obiettivo e chiaramente è necessario poi avere un meccanismo di misurazione per essere effettivamente consapevoli per capire se stiamo andando nella direzione corretta. Per quanto riguarda invece il monitoraggio delle linee d'azione, come vi dicevo, avviene secondo un meccanismo on-off, quindi le azioni che siano istituzionali, quindi che siano a carico dell'Agenzia, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale o di altri soggetti istituzionali, quali l'Agenzia per la Cybersicurezza o Pago PA, possono essere concluse o non concluse, quindi noi annualmente andiamo a verificare se determinate azioni sono state portate a termine o meno e chiaramente andiamo ad indicare quali sono gli output raggiunti nel caso in cui l'azione sia stata portata a termine. Ci sono state delle ipotesi in cui l'azione non è stata realizzata nel termine, può essere stata ad esempio ripianificata perché è cambiato il contesto strategico o è cambiato il riferimento normativo, oppure perché è stato necessario ripianificarla perché le attività richieste sono mutate nel tempo. Sul sito del monitoraggio del piano triennale da questo punto di vista trovate anche lo stato di attuazione delle linee d'azione secondo questo screen che vi ho riportato nella slide. Per quanto riguarda invece la rilevazione della spesa, come vi ho detto il terzo elemento che andiamo a monitorare rispetto al piano triennale è l'andamento della spesa ai siti delle pubbliche amministrazioni. L'agenzia quindi svolge questa rilevazione annuale su un panel di un poco meno di 80 amministrazioni, nell'ultimo anno sono state 78, quindi si va ad indagare qual è la spesa effettuata nei siti, sia chiaramente per capire come le amministrazioni spendono, sia per disporre di elementi che possono poi essere a supporto di una buona programmazione anche per la spesa delle amministrazioni, sia per definire le caratteristiche principali del percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Naturalmente questi tre elementi che vi ho raccontato come vi dicevo ci permettono da un lato di monitorare e di capire come il piano triennale viene recepito dalle amministrazioni, come il piano triennale impatta sul percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, dall'altra ci fornisce elementi utili anche nel momento in cui poi andiamo ad effettuare effettivamente un'attività di redazione del piano triennale e ci permette, chiaramente ci supporta nella fase di redazione. In questo slide ho riportato brevemente quelle che sono le fasi interne del monitoraggio del piano triennale, quindi noi andiamo a compiere dei colloqui con i referenti di ciascun capitolo del piano triennale, siano essi interni o siano essi esterni, andiamo a raccogliere, ad organizzare e a sistematizzare i dati e andiamo poi a procedere all'esposizione e alla divulgazione degli stessi. In che modo? Su uno specifico sito che vi ho riportato in questo slide, naturalmente come vi ho detto in questa fase è in corso il monitoraggio sia delle linee d'azione che dei risultati attesi a dicembre 2022 e quindi chiaramente ancora non è aggiornato ma lo sarà nel corso delle prossime settimane con i dati del 2022. Io ho concluso per quanto riguarda il monitoraggio del piano triennale provando a darvi gli elementi che caratterizzano l'attività di monitoraggio che poi come vedete è anche un'attività che impatta anche in maniera notevole sulla redazione del piano triennale. Quindi passo la parola al collega Nicola De Chiara che invece approfondirà il monitoraggio del progetto Italia Login. Buongiorno a tutti, eccomi. Ecco le slide. Intanto mi presento, Nicola De Chiara, faccio parte di Agid e diciamo nell'ambito delle attività in Agid ho seguito il progetto Italia Login e in particolar modo le attività di monitoraggio che ne sono conseguita. Adesso, diciamo, seguendo la scaletta che ci siamo dati in questo webinar, proverò a raccontarvi come ci siamo comportati per quanto riguarda appunto il monitoraggio di questo progetto e con un particolare focus sulla parte degli indicatori. Intanto un minimo di contesto nel senso che appunto Italia Login è uno dei progetti del Pong Governance, come sapete. Il Pong Governance è un programma europeo finanziato dai fondi comunitari gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale e questo progetto, nello specifico, vede come organismo intermedio di gestione del progetto il Dipartimento della Funzione Fuglia. Il progetto, come ci siamo detti fino adesso, il monitoraggio viene fatto sui progetti, i colleghi lo hanno raccontato in diversi modi nei precedenti interventi, appunto il monitoraggio di interventi e di progetti, però il progetto Italia Login è un progetto abbastanza particolare. Come vedete dalla slide, diciamo, è un progetto anche cospicuo, diciamo, in termini di risorse assegnate, per cui all'Agenzia per l'Italia Digitale sono state assegnate 50 milioni di euro per la gestione di questo progetto, con una durata molto lunga, nel senso che ha coperto quasi totalmente il settennato della programmazione comunitaria 14-20. Infatti la durata del progetto è dal 2016 ed è in fase di conclusione ad ottobre 2023. Dicevo che è un progetto particolare perché, appunto, sia per le dimensioni che per le attività da svolgere ha previsto tante subazioni al proprio interno per poter realizzare lo scopo più generale che, come vedete nella descrizione che ho riportato, diciamo, era quello di supportare il processo di trasformazione digitale. Quindi un progetto molto articolato, non con un obiettivo unico ma con un obiettivo generale che poi nel tempo si è declinato e che quindi ha avuto in qualche modo, per quanto ho progettato nel dettaglio, diciamo, diversi momenti di riadeguamento, di riprogrammazione e quant'altro. Tutto questo, diciamo, sia per darvi il contesto, sia per dirvi che fondamentalmente l'attività di monitoraggio a supporto di questo progetto è stata molto articolata. Adesso entriamo nel merito. È stata articolata proprio perché, appunto, il monitoraggio è stato detto anche in precedenza, lo ribadisco e lo dico in maniera veloce in questo frangente, diciamo, dei progetti, soprattutto in ambito comunitario, ma in generale, come ha detto il collega Susa, diciamo, per quanto riguarda i progetti, avviene su tre tipologie di dimensioni tendenzialmente, quella finanziaria, quella procedurale e quella fisica. La complessità di questo progetto ha fatto sì che, appunto, fosse necessario non soltanto un monitoraggio standard, diciamo, così come previsto per i programmi comunitari e che poi dopo approfondiremo, ma anche la strutturazione di un ufficio che si occupasse di project management a supporto del progetto proprio per la sua complessità e tenesse sott'occhio, diciamo, tutte le dimensioni. Questo è stato molto importante proprio per quello che vi dicevo prima, sia per la complessità sia per le riprogrammazioni dell'intervento che nel corso del tempo sono state effettuate e che hanno consentito in itinere di reindirizzare il progetto. Quindi qui riprendiamo uno dei concetti che è stato dato in precedenza, ovvero il monitoraggio in itinere con l'importanza strategica e l'indirizzo che, diciamo, i dati di monitoraggio danno rispetto a un determinato progetto. Quindi questo ufficio di project management ha seguito tutte le attività guardando le tre dimensioni. Sulla base dei dati sono state effettuate le scelte strategiche di progetto. L'altra modalità di monitoraggio, diciamo, che è stata adottata per il progetto è quella richiesta dai regolamenti comunitari, quindi sempre alle stesse dimensioni, però ovviamente guardando ad elementi specifici in coerenza con il sistema di gestione e controllo previsto dal programma Pong Governance e secondo le regole appunto lì descritte e richieste. In questo frangente in particolare c'era un sistema di monitoraggio da alimentare, proprio perché richiesto appunto dal Pong Governance, che sulla base delle singole dimensioni richiedeva informazioni specifiche di aggiornamento delle informazioni, peraltro con una cadenza determinata, nel senso che il monitoraggio del Pong Governance ha regole anche temporali, definite, specifiche, quindi le informazioni venivano richieste bimestralmente. Entro 23 giorni successivi, diciamo, ai bimestri definiti di monitoraggio, che giusto per condivisione con tutti erano 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 ottobre e si ritorna al 31-12. Quindi ogni bimestre, diciamo, sulla base delle regole del Pong Governance ci veniva richiesto di aggiornare queste informazioni. Dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, le informazioni richieste da aggiornare riguardavano gli impegni giuridicamente vincolanti assunti nell'ambito del progetto, quindi singoli contratti stipulati, tutti i giustificativi di spesa che venivano appunto di volta in volta presentati dai fornitori e poi successivamente pagati, quindi i diversi SAL ricevuti da Agid e i conseguenti pagamenti, e poi il cosiddetto piano dei costi, ovvero un avanzamento generale per anno di quello che è stato realizzato e quello che c'è ancora da realizzare. Dal punto di vista procedurale, invece, le informazioni che ci venivano richieste, che ci sono state richieste, hanno riguardato sostanzialmente l'attribuzione o il caricamento dell'informazione relativa alle date procedurali di progetto e in generale rispetto al progetto nella sua interezza, quindi quando il progetto è stato avviato e tutte le date dell'esecuzione fino alle verifiche finali che sono in corso, che stanno terminando, sia le date relative alle singole procedure di aggiudicazione, quindi con riferimento anche ai singoli codici CIG laddove è necessari, con le date di pubblicazione e aggiudicazione delle procedure laddove è prevista. E infine l'ultima dimensione che è quella invece dell'avanzamento fisico, ovvero l'avanzamento relativo all'aggiornamento degli indicatori. Questo aspetto è quello che adesso approfondiamo un po' di più, ma semplicemente perché le altre dimensioni hanno delle regole abbastanza definite. In realtà anche l'avanzamento degli indicatori generalmente è molto standard, i primi colleghi vi hanno fatto focus sulle modalità classiche di raccolta dell'informazione degli indicatori che prevedono tendenzialmente l'individuazione di un target e la valorizzazione delle realizzazioni nei periodi di rilevazione che come vi ho detto erano bimestrali sul progetto. Però come ci ho tenuto, diciamo, l'introduzione a fare un focus rispetto alla complessità del progetto, proprio perché questa complessità ha comportato ragionamenti molto evoluti nella definizione, nella valorizzazione degli indicatori del progetto Italia Login. Prima di entrare nel merito, vi dico quali sono gli indicatori che sono stati individuati per il progetto. Gli indicatori, come si diceva prima, come diceva il collega, diciamo, sono di due categorie. Da un lato gli indicatori di risultato che rappresentano, diciamo, in qualche modo dei risultati più alti o più a lungo termine che il progetto ha portato avanti. E gli indicatori di output, invece, che sono indicatori, diciamo, di realizzazione specifica del singolo progetto. Il progetto Italia Login ha dovuto individuare, così come tutti i progetti finanziari del Pong Governance, diciamo, i propri risultati, ovvero, non è che ha dovuto individuare, è stato definito in coerenza con i risultati e le realizzazioni previste dal Pong Governance e quindi i conseguenti indicatori. Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, diciamo, quelli a cui il progetto atteso sono sostanzialmente i tre che vedete nella slide e quindi quota di operatori che hanno completato con successo i percorsi di rafforzamento delle competenze digitali, amministrazioni che si sono riorganizzate e amministrazioni locali con collegamenti e scambi di dati con le pubbliche amministrazioni. Questi indicatori sono strettamente collegati, diciamo, a indicatori di output che invece per quanto riguarda appunto quelli individuati per il progetto abbiamo numero di amministrazioni coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle proprie strutture organizzative, numero di operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze digitali, numero di servizi di co-progettazione erogati in forma associata. Diciamo, sono strettamente collegati, non li ho messi in ordine, però il 4 out strettamente collegato con il 6 RIS, il 5 out strettamente collegato con il 7 RIS, 12 out e 13 RIS sono strettamente collegati. E appunto come vedete questi indicatori hanno delle caratteristiche diciamo un po' generiche, nel senso che appunto l'individuazione non è puntuale e quindi l'individuazione delle realizzazioni doveva essere strutturata per quanto ci riguarda nell'ambito del progetto. Appunto questa individuazione è stata possibile soltanto con una progettazione adeguata dell'intervento che è stata fatta all'origine, il monitoraggio della stessa e la definizione di una specifica metodologia. Infatti quello che ha consentito appunto ad Agid di valorizzare questi indicatori era appunto la definizione di una metodologia dettagliata che consentisse dimestralmente di rilevare i dati, conoscere esattamente qual erano le fonti di raccolta delle informazioni e quindi determinarne conseguentemente la valorizzazione di volta in volta. Vediamo quindi diciamo velocemente per ciascun indicatore quali sono stati gli elementi di rilievo nella determinazione dell'indicatore e quali le fonti. Poi a corredo vi racconto anche altri elementi. Rispetto all'indicatore 5 out, quindi numero di amministrazioni coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, di razionalizzazione delle proprie strutture organizzative, vedete che appunto l'indicatore è generico e quindi intanto in termini metodologici ci si è posto il problema di comprendere quali fossero le amministrazioni e quindi come contare il valore unitario di amministrazioni. In questo caso abbiamo deciso in termini metodologici, ovviamente la decisione non è stata presa univocamente da Agile ma condivisa con i soggetti di cui vi dicevo prima che sono all'interno del comitato del progetto, quindi da un lato l'organismo intermedio della funzione pubblica, dall'altro l'autorità di gestione, quindi la metodologia è stata condivisa con tutti loro e quindi è stato individuato puntualmente quali fossero le amministrazioni, che cosa si intendesse con il numero di amministrazioni che sono coinvolte in processi e quindi che cosa si sarebbe dovuto contare. Ed è stato definito che la singola amministrazione da contare era l'amministrazione coinvolta in uno dei progetti di riorganizzazione previsti nell'ambito del progetto Italia Login. Peraltro nella metodologia è stato anche specificato che la medesima amministrazione che partecipa a più attività subprogettuali del progetto Italia Login nell'ambito della riorganizzazione dei processi potesse essere contata più volte a fronte di riorganizzazioni diverse dei singoli uffici. Per cui l'indicatore contava ovviamente tutte le progettualità che Agit ha realizzato nell'ambito del progetto Italia Login e la singola amministrazione poteva essere contata più volte. Le fonti anche sono fondamentali perché in tal modo il dato potesse essere raccolto sempre allo stesso modo e anche con una possibilità di incrementare l'informazione senza avere difficoltà nella raccolta dei dati. Anche perché come sapete i progetti sono anche controllati esternamente quindi non solo c'è un monitoraggio e un controllo interno di progetto ma poi sia la funzione pubblica che l'autorità di gestione periodicamente facevano delle attività di audit per cui è sempre diciamo nell'ambito delle metodologie definire quali sono le fonti e come archiviare diciamo i dati che sono a supporto della valorizzazione del monitoraggio in particolar modo degli indicatori. Per cui sono state definite le singole fonti e in questo caso appunto le fonti di rilievo erano la piattaforma di analytics di speed, la piattaforma dei sistemi immunitariali, le piattaforme di procurement di appalti innovativi, i tool di risk assessment scritto male e il portale dati COVID perché all'interno di questo indicatore diciamo venivano individuati determinate i sub progetti tra i quali appunto speed piuttosto che la valorizzazione degli open data, i progetti di riorganizzazione di sistemi museali oppure degli appalti innovativi. Altro indicatore un po' più semplice ma comunque con la necessità di dover specificare che cosa si intendesse per operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle competenze digitali è quello appunto il 4-out. Anche in questo caso abbiamo dovuto individuare chi fossero gli operatori e quindi individuare le singole persone fisiche che partecipavano ai percorsi di rafforzamento o alle fasi di accompagnamento che Agida ha avuto con le singole amministrazioni e che facessero parte delle amministrazioni pubbliche. Quindi la specificazione diciamo dell'operatore in questo caso appunto riguardava le pubbliche amministrazioni supportate e in questa metodologia il singolo operatore è stato considerato appunto singolo partecipante a prescindere dalla numerosità di eventi a cui lo stesso ha partecipato. La fonte informativa in questo caso era sia il sistema gestionale che ha supporto della gestione del progetto Italia Login sia le piattaforme che sono state utilizzate per le attività di rafforzamento previste quali ad esempio quella che stiamo in questo momento utilizzando nell'ambito delle attività di rafforzamento supportate dalla Formez. L'ultimo indicatore di output invece era il numero di servizi coprogettati erogati in forma associata o interoperabile. Anche in questo caso abbiamo dovuto determinare la metodologia per individuare quali fossero i servizi e come individuarli. Appunto in quest'ambito la metodologia era quella di individuare i servizi che fossero stati supportati nella coprogettazione da Agid e che fossero previsti all'interno del piano triennale e quindi diciamo l'indicatore ancora una volta composito e strutturato sulla base delle subazioni del progetto ha visto la valorizzazione per il tramito di diversi servizi coprogettati grazie al supporto del progetto Italia Login. Le fonti ancora una volta delle piattaforme erano diciamo convenzioni per esempio le convenzioni presenti nella piattaforma ancora una volta di Speed Analytics piuttosto che la piattaforma di procurement di appalti innovativi per le adesioni e coprogettazioni delle community e sotto community piuttosto che l'adesione ad altre iniziative previste all'interno di Italia Login come ad esempio Web Analytics Italia eccetera. Andando ancora avanti diciamo il risvolto della medaglia sugli indicatori di risultato è stato quello di poi ragionare su quali fossero i meccanismi di individuazione e di successo dei singoli indicatori perché appunto rispetto all'indicatore della formazione ad esempio quale era la modalità per individuare il successo dei percorsi di rafforzamento e quindi anche in quel caso è stata definita appunto una metodologia per cui partendo dagli indicatori 4 out quindi dagli operatori che hanno preso parte alla formazione e sempre utilizzando le medesime fonti però sono state verificate anche i questionari di valutazione finale laddove presenti o i certificati di attestazioni di presenza se appunto non venivano previsti questionari di valutazione e quindi è stata definita una metodologia di calcolo medio di presenza e di valutazione finale oltre la quale appunto si decretava il successo del percorso di rafforzamento e quindi sulla base del numero dei partecipanti di quanti hanno conseguito con successo il percorso di rafforzamento è stato determinato ovviamente il calcolo indicatore che nell'ambito degli indicatori di risultato tendenzialmente non è una valorizzazione di realizzazione come nel caso appunto dei tre primi indicatori che abbiamo visto ma tendenzialmente è un rapporto percentuale quindi quota di operatori che hanno completato con successi percorsi è una percentuale che viene data come target nell'ambito del programma che nel nostro caso era il 70% e quindi sulla base della metodologia definita abbiamo calcolato appunto il numero di operatori che hanno conseguito con successo il percorso formativo. Stessa cosa per il numero di amministrazioni che si sono riorganizzate e quindi anche in questo caso è stata definita una metodologia per individuare puntualmente il fatto che appunto la riorganizzazione fosse stata effettivamente portata a compimento e in questo caso appunto la metodologia prevedeva il fatto che i servizi alla base della riorganizzazione fossero operativi e quindi anche in questo caso è stata fatta un rapporto tra le amministrazioni che hanno avviato la riorganizzazione e quelle che hanno messo in esercizio i servizi. Invece il 13 RIS per fortuna diciamo non è stato un indicatore diciamo monitorato da Agit direttamente ma semplicemente perché appunto questo indicatore era previsto nell'ambito dell'accordo di partenariato venisse raccolto da ISTAT e quindi diciamo la valorizzazione di questo indicatore nello specifico è stata effettuata da ISTAT. Concludo diciamo l'intervento semplicemente raccontandovi che a fronte della definizione di questa metodologia abbiamo potuto così come per il progetto poter ridefinire in itinere gli obiettivi laddove il progetto avesse delle sue riprogrammazioni e ci ha consentito di tenere sott'occhio diciamo il raggiungimento dei target che ad oggi risultano totalmente conseguiti per tutti gli indicatori del progetto e soprattutto ci ha consentito la definizione della metodologia di rispondere correttamente alle richieste informative sia bimestrali che ci venivano richieste dal PON governance sia quelle in qualche modo estemporanee che ci venivano fatte dai soggetti quali appunto funzione pubblica o la stessa autorità di gestione e soprattutto ci ha consentito di rispondere in maniera puntuale e adeguata ai diversi incontri di audit che ci sono stati fatti sul progetto per verificare che appunto tutto quanto in realizzazione stesse proseguendo nel miglior modo possibile. Mi fermerei qua, lascerei di nuovo la parola alla dottoressa schifo. Allora grazie mille Nicola De Chiara, grazie è stato chiarissimo l'intervento, io gestirei adesso la fase delle domande, vi ringrazio perché siete stati tutti molto chiari, forse proverei a partire proprio dalle ultime per dare modo a Nicola di continuare un po' il discorso. Allora intanto ci chiedono, gli indicatori fanno riferimento agli obiettivi tematici del PON governance? L'ho riportato nella slide diciamo iniziale, il progetto è complesso anche per questo motivo nel senso che il progetto Italia Lobinio faceva riferimento a due obiettivi specifici del PON governance in particolare, quindi OT2 e OT11 e gli indicatori nell'ambito del programma sono definiti anche sulla base degli obiettivi tematici, per cui gli indicatori che abbiamo visto diciamo in particolar modo per esempio il 4-8 che riguarda appunto gli operatori che sono stati coinvolti hanno a che fare con l'obiettivo tematico 11, mentre l'altro indicatore relativo ai servizi è più specifico dell'obiettivo tematico 2 che riguarda appunto la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Quindi sì, assolutamente sì, nell'ambito dell'organizzazione del progetto e del programma c'è una cascata per cui dagli obiettivi generali del programma sono stati definiti, individuati gli obiettivi specifici e quindi gli indicatori di conseguenza. Allora grazie, poi c'è una domanda invece questa più generale di Francesco Giacomo Santoro che dice avete in progetto la possibilità di accedere ai siti istituzionali con speed aziendale professionale per gli adempimenti di ufficio? Molti dirigenti sono resti a usare lo speed personale. A questa provo a rispondere io nel senso che ovviamente come sapete sono in corso le interlocuzioni dei responsabili speed di agit con gli IDP quindi gli identity provider per definire le nuove diciamo le nuove modalità operative e questa però appunto è una domanda che è sulla da 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 questo tavolo per cui sicuramente usciranno nuove linee guida ed indirizzi insomma a stavale di questi incontri che sono comunque in corso ormai da gennaio con gli identity provider. Patrizia non si sente. Una domanda a cui può rispondere Stelio. Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento del piano triennale Agile le PA in quanto tempo devono pubblicare il loro piano aggiornato? Lo chiede Daniela Brunno. Sì faccio Patrizia una sintesi di tutte le tre domande che sono arrivate sul piano triennale quindi le due di Daniela Brunno e l'altra se non sbaglio di Michael Bressan spero di non aver pronunciato male il nome. Allora diciamo che per quanto riguarda il cioè non c'è un tempo specifico ma chiaramente le amministrazioni possono pubblicarlo sulla base di quella che è la loro programmazione di quelli che sono i propri adempimenti organizzativi. Da questo punto di vista l'agenzia ha messo a disposizione quello che noi abbiamo chiamato come format PT quindi un format per la compilazione del piano delle amministrazioni ed è corretto quanto veniva richiesto nel senso che l'obiettivo è quello di voler digitalizzare questo strumento attualmente si tratta di un documento che viene messo a disposizione delle amministrazioni che può rappresentare la traccia per la redazione del proprio piano triennale quindi l'obiettivo è quello di digitalizzare questo strumento e di permettere poi all'amministrazione la compilazione online e chiaramente questo faciliterà moltissimo anche il monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni. Questa attività chiaramente inciderà anche sulla parte di spesa. Io non mi occupo direttamente di questa attività però credo che rispetto ai tempi chiaramente ora non appena procederemo alla pubblicazione del report dello scorso anno poi avvieremo anche le attività per la nuova rilevazione quindi nel corso dei prossimi mesi. Ho provato a fare una sintesi di tutte e tre le domande dando un po' di informazioni. Grazie. Allora mi pare che... Allora poi c'è Francesca Saracino che dice in Italia domani si trovano anche i dati sull'avanzamento degli interventi PNRR anche delle PA locali? Risponderei io per quanto non è propriamente diciamo nostro tema però proprio ieri mi sa che sono stati pubblicati tutti i dati in formato aperto di avanzamento dei progetti su Italia domani quindi diciamo che è possibile andarle a scaricare e consultare da lì. Allora, faccio semplicemente una piccola precisazione tutti i dati presenti su Regis quindi in teoria le amministrazioni avrebbero dovuto caricare i dati su Regis se le amministrazioni le hanno caricate sono disponibili se le amministrazioni non le hanno caricate risulta il dato vuoto quindi penso... non so se sono stato chiaro però diciamo che la situazione è questa i dati sono disponibili praticamente su tutti i progetti solamente se saranno vuoti se le amministrazioni non le hanno caricate su Regis però le scadenze erano abbastanza stringenti quindi penso che siano complete però ripeto, dipende dal caricamento dei dati perché è uno scarico di Regis essenzialmente queste Open Data. Ok, grazie mille. C'è un commento poi di Pietro Farinati che dice La tecnica di monitoraggio ricorda il metodo open source della comunità europea PM2 il cui manuale si può scaricare gratuitamente dal web con i suoi 72 artefatti Sì, concordo in pieno nel senso che allora PM2 nasce essenzialmente dall'esperienza delle direzioni generali della Commissione Europea è in modo particolare digit ed è un modo per facilitare la gestione dei progetti ora, diciamo è molto simile nasce praticamente dal project cycle management però si differenzia per alcune attività nel senso che il project cycle management è molto più generale essenzialmente va a livello di programmazione PM2 invece lavora a livello di progetto però è una metodologia di project management che sicuramente facilita la vita di chi fa progettazione europea quello sicuramente però purtroppo per alcune cose a livello di progetto e non di programma è un po' come la differenza che c'è tra il program management e il project management è un livello un pochino più alto però sicuramente la PM2 è un'ottima metodologia soprattutto per open source si ci chiedono se si potrebbe avere il link per quello che si, devo trovarlo lo mettiamo a disposizione non ce l'ho adesso per quella che è la parte anche in italiano tra parentesi infatti per quella che è la parte tradotta anche in italiano esatto, sì, infatti allora io vi volevo dire che a valle di questo webinar che è stato veramente molto interessante per noi è il webinar finale delle attività della linea 1 del progetto che è stata quella che ha gestito diciamo moltissime attività di informazione e di formazione come chi di voi ha frequentato un po' di più sa io vi volevo focalizzare diciamo l'attenzione sul fatto che il monitoraggio dei progetti qualsiasi sia la natura dei progetti viene visto un po' come un adempimento freddo e a volte anche burocratico io vi inviterei anche sulla base diciamo della chiave di lettura che ci hanno fornito i relatori di oggi di non viverlo così perché il monitoraggio è intanto è un processo quindi che accompagna il progetto dall'avvio fino alla fine ed è un processo che può essere considerato veramente il termometro del progetto ci misura la temperatura rispetto a quello che sta succedendo e quindi ci dà il monitoraggio correttamente eseguito se noi appunto poi lo utilizziamo come sensore rispetto a quello che sta succedendo all'efficacia delle nostre attività ci dice se il progetto sta andando bene dove sta andando bene e ci dice anche dov'è che abbiamo necessità di correggere il tiro quindi veramente misura la temperatura e ci dà anche degli alert abbastanza diciamo importanti rispetto alla correzione del tiro senza il monitoraggio non avremmo diciamo la possibilità anche di scoprire intanto di rimodulare di riprogrammare e di correggere la rotta in itinere ma anche la possibilità di scoprire degli elementi imprevisti perché in qualsiasi progetto noi l'abbiamo visto anche in questo progetto che è stato di molta soddisfazione che abbiamo realizzato come voi sapete con Agit quindi progetto dentro cui si inserisce anche questo evento noi abbiamo anche visto avuto degli elementi imprevisti non tutto si può prevedere all'inizio questi elementi imprevisti possono essere positivi o negativi quelli negativi appunto li possiamo correggere ma quelli positivi li dobbiamo durante il progetto anzi valorizzare quindi il monitoraggio è uno strumento che va condotto in maniera appunto molto partecipata quindi è meglio se c'è un gruppo che poi segue i vari aspetti del monitoraggio e segue gli vari aspetti e permette anche diciamo l'incrocio dei dati di quello che è appunto il monitoraggio fisico procedurale con tutte le distinzioni che vi hanno fatto i nostri i nostri relatori oggi però ecco valorizzare anche gli elementi imprevisti positivi che sono appunto dei risultati positivi questo ci è consentito se appunto noi ne abbiamo per circione mentre le cose succedono allora visto che siamo alle 11.30 io diciamo fino alla fine vi ho parlato di altro perché sono anche un po' emozionata nel salutarvi e nel ringraziarvi perché questo è l'ultimo evento della linea 1 del progetto in generale del progetto che noi abbiamo con Agit in formazione e formazione per la transizione digitale che scade il 30 aprile naturalmente noi speriamo che la diciamo la collaborazione con Agit continui e che vi possiamo appunto presto ricontattare per nuove iniziative però volevo veramente ringraziarvi tutti perché a proposito di indicatori la partecipazione agli eventi di questo progetto è stata veramente eccezionale quindi di questo io ringrazio tutti voi e spero appunto che ci continuate a seguire sulle pagine appunto di Agit e anche di di Formez grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti